Carlo, per la domanda. Possiamo parlare sulle sue influenze, come la sua cucina piemontese viene influenzata dall'esperienza che ha in Asia? L'Asia... Prima presentati. Scusate, sono Giovanni Grascio del ristorante La Credenza, San Maurizio Canavese, provincia di Torino, vicino all'aeroporto di Caselle. La nostra cucina è una cucina moderna, attuale, parte dal territorio, ma ha un'influenza ciò che è buono e ciò che è fresco o interessante. La prima influenza è stata nata da 18 anni fa a Singapore, 19 anni fa, dove ho scoperto delle spezie e degli ingredienti che, inseriti nel contesto della cucina piemontese, rendono una cucina più fresca, moderna, attuale, leggera. E quindi continuiamo ancora adesso con Igor a girare molto, a influenzare gli altri e a farci influenzare. Grazie mille. Grazie a voi e a tutti. Ciao.